Due ragazze italiane sorprese con indosso pochi capi di biancheria intima mentre effettuavano prestazioni sessuali a pagamento a favore di clienti occasionali. Sulla carta era infatti un centro massaggi ma di fatto era una casa di appuntamenti aperta al pubblico maschile. I carabinieri della tenenza di Terlizzi assieme alla guardia di finanza della tenenza di Molfetta hanno scoperto l'esistenza di una vera e propria casa chiusa a Terlizzi. A finire in manette la responsabile del fantomatico centro benessere Aloha, una cinquantenne originaria di Corato. A destare sospetti lo strano susseguirsi di tanti uomini tutti di mezza età all'interno del palazzo in cui c'era l'attività. La titolare aveva sin da subito pubblicizzato il centro su diversi siti internet e allo stesso tempo sul web era comparsa un'offerta di lavoro. Richiede siabile massaggiatrice. Le successive indagini hanno permesso di appurare che in realtà i massaggi venivano eseguiti in piena nudità e che alle massaggiatrici per ogni prestazione veniva corrisposta una percentuale del 25 per cento dei guadagni, dietro rilascio di regolare fattura. Si trattava comunque di cifre incassate non indifferenti. Un massaggio poteva infatti anche arrivare a fruttare 130 euro. L'immediato intervento dei carabinieri e della guardia di finanza ha permesso di cogliere in flagrante due ragazzi e massaggiatrici che hanno subito ammesso cosa in realtà accadeva abitualmente all'interno del centro, sottoposti a sequestro, macchinari e prodotti utilizzati nell'attività.